mi sembra normale che devo andare in giro con uno così sembra normale non ci vergogni ci vergogni un po io sì ma noi josh piace anche coi calzini adesso la nostra letizia petis abbronzatissima che balla ma arrivano pure i nostri perlitas che ieri sono mancati perché perché sono tornati dal dal mar rosso ed erano molto molto stanchi infatti oggi risveglio un po così relax per mirko brunetti a questa faccetta un po stanca e invece vi ho pescato una clip bellissima qui al tramonto sempre nel deserto ma questa è la nostra perlita è la nostra perlita altro che solo ragazza glamour sempre vestita bene con la sua collezione nostra perlita quando si mette l'impegno sale sul quad e veramente ragazzi miei non ce n'è per nessuna io amo perla ciao